No, è mio, no, sì, tu, oh, no, peccato, accidenti, qui, sì, sul mio tavolo, sì, ma no, ma cos'è successo, ma eppure era dappertutto, accidenti, ma cosa è successo, chiedo a mamma se può fare qualcosa così che ci sia di nuovo tutto così loccicante, tipo gelatina nella mia camera, Anna, cosa stai facendo, sto giocando con Pia, guarda, posso anche io, ti aiuto, ti aiuto, possiamo fare qualcosa insieme, ok, ma allora ti faccio vedere qualcos'altro, allora tu ti siedi lì sul pavimento, ok, e poi? Io mi siedo di qua, ok, e ora chiama Pia così che venga da te, Pia, vieni, Pia, qui, brava, bravissima, brava, ora la chiamo io, ok, Pia, vieni, vieni, ancora un pezzettino, vieni, Pia, vai, vai, wow, guarda, l'ha fatto, hai visto, è saltata addirittura sulle mie gambe, penso che mi conosca meglio, è davvero, si fida, ora deve venire nuova da me, Pia, Pia, Emma, penso che sia abbastanza per oggi, si deve calmare un po', oh no, peccato, bravissima, Pia, e ora cosa facciamo? Volevo chiederti se potevi, insomma, riempire la mia camera con quello che avevi usato, insomma, tutto rosa, Emma, sei impazzita? No, la mamma si è arrabbiata tantissimo l'ultima volta, non penso che lo voglia di nuovo, posso chiedere alla mamma, e poi magari può dire di sì o di no, magari dice di sì, insomma, dai, era divertente, mamma, mamma, cosa c'è, Emma? Mamma, volevo chiederti una cosa, oggi sono stata bravissima, ho mangiato la frutta, la verdura, ma certo l'hai visto, sì, vero, lo so, e quindi mi sono guadagnata che Emma riempia la mia camera di nuovo con quello... no, Emma, scordatelo, lo sai che disastro era stato? Scordatelo! Oh, insomma, ma sei davvero diventata pazza? Hai visto il lavoro che ho dovuto fare per pulire tutto? No, no, no. Peccato, ok, ma chiedere non costa nulla. Allora, no, veramente, mi dispiace, questa volta proprio no. Sì, ok, ok, mamma, Anna, ho chiesto! Sì? E non te l'ha detto, è stato di no, vero? Mmm, insomma, ha detto che dovrebbe essere, insomma, non devo semplicemente toccare i mobili, poi posso! Mmmh, davvero l'ha detto? Mmmh, davvero? Mi sembra strano, però se lo dici tu... Mmmh, sì, sì, potremmo farlo qui nella doccia, così va via subito, hai presente? Insomma, non ci sono mobili e niente. Mmmh, vero. Cosa vuoi fare, però? Non vuoi mica andare a fare la doccia? Mmmh, sì, fare la doccia, però non con l'acqua! Sì, sarà davvero schifadissimo! Come? Cosa vuoi fare? Mmmh, fare, insomma, la doccia con il muco? Sì, sì, proprio così, sì, guarda! Vuoi fare quello? Sì! Mmmh, ok, di cosa ho bisogno? Mmmh, ok, ok, allora, io mi metto qua sopra e poi rovescio tutto il muco sulla tua testa, quando sei pronta lo fai? Sì, sono pronta, sono curiosa di sapere com'è! E via! E via! È freddo! E ma cosa sta succedendo di nuovo? Oh, meglio se salga! Oh, bambini, ma cosa state facendo? Guarda, mamma, mi sono riempita di muco! Ma, Emma, te l'avevo vietato, sei scesa, hai chiesto e io ho detto di no, assolutamente no! Mamma ha detto che... Insomma, hai detto che sarebbe potuto riempire pure pure di muco o qualsiasi cosa, che non è niente di contro, però l'importante era che non si sarebbero sporcati i mobili! Sì, esatto, e io ho fatto proprio così, guarda! Ma, ma, insomma, non è possibile! Oh, me, ma... Non è possibile, l'hai fatto davvero! Ti sei riempita di muco! Oh, la prossima volta non dico nulla!